Il vice ministro dello sviluppo economico Teresa Bellanova ha tenuto a battesimo il Parlamento delle imprese, lo strumento innovativo ideato dalla Camera di Commercio di Cosenza per accorciare le distanze tra gli attori economici e le istituzioni. Il canale di comunicazione promosso nel solco di Open Camera Cosenza è una svolta culturale e organizzativa impressa dalla governance del presidente Klaus Algevi. Si registrano le imprese, hanno tre minuti e le istituzioni ascoltano le proposte che possono fare. Lì poi noi li seguiamo, queste proposte li porteremo avanti fino a quando gli impegni presi vengono raggiunti. Abbiamo un appuntamento con i sottosegretari al turismo, ma anche quello regionale, ma anche quello provinciale, fino a farla funzionare se ci sono problemi anche comunali. Dunque ogni rappresentante di un'azienda, dopo essersi iscritto alla discussione via web tramite l'Associazione di Categoria di Riferimento, può formulare una domanda su un tema specifico oppure presentare una proposta agli esponenti delle istituzioni invitati nella seduta parlamentare. Un modo per far oire il dialogo tra il mondo imprenditoriale e quello della politica in un momento nel quale l'ascolto e lo scambio di informazioni sono necessari per indirizzare i processi decisionali nella direzione giusta. Salvatore Bruno per la Cinews24